più che della partita dobbiamo occuparci secondo il mio modesto punto di vista del ritardato soccorso al giocatore rimasto infortunato speriamo che non sia nulla di grave Paolo Greco sì buonasera a tutti sì va bene più che altro mi dispiace per Andrea è vero anche il ritardo del soccorso ormai a queste cose siamo abituati purtroppo non perdiamo mai l'abitudine in Italia come solo a Reggio Calabria o a Melito di avere queste imprevisti non so abbiamo pure delle carenze grosse anche negli ospedali l'ospedale di Melito forse non ha neanche l'ortopedica a quanto dicevano quindi Andrea ora è andato all'ospedale di Reggio comunque nulla di grave alla fine solo una brutta botta sicuramente starà fermo un po' di tempo la partita l'abbiamo detto nel corso della nostra teleclonaca c'era una sola squadra in campo la Propellaro che aveva dominato fino a quel momento il lungo e il largo anche se purtroppo non è riuscita a trovare il pertugio dalle parti dell'ottimo Falcone uomo ragno para tutto sì sì è vero oggi siamo stati abbastanza determinati cosa che magari non abbiamo la determinazione che ci è mancata in alcune partite invece importanti dove abbiamo magari pareggiato 0 a 0 oggi eravamo determinati dovevamo ci mancava solo il gol sinceramente abbiamo fatto una partita molto buona stavamo dominando è la verità un campionato dominato dal Ravagnese ma la Propellaro c'è e potrebbe inserirsi anche in vista degli scontri diretti eccetera sì 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 al momento sinceramente il Ravagnese sta dimostrando di essere la squadra da battere è la verità anche se è un campionato un po' particolare perché vedi il Ravagnese stesso è una squadra che comunque è prima però anche il Ravagnese ha perso due partite di solito in questi campionati c'è la squadra ammazza campionato quest'anno invece è abbastanza equilibrato nulla toglierò ovviamente il Ravagnese che sta dimostrando sinceramente di meritare ampiamente il primo posto gli addetti al lavoro inseriscono la Propellaro tra le candidate alla vittoria finale sì sicuramente credo la Propellaro sia una delle squadre che anche magari non arrivando prima sicuramente disputeremo i playoff o quantomeno ci proveremo fino alla fine siamo un'ottima squadra abbiamo perso alcuni pezzi importanti durante il campionato per infortunio alcuni anche per lavoro e quindi siamo un po' penalizzati durante le partite però fortunatamente andiamo avanti che altro dobbiamo parlare dell'infortunio occorso al giocatore della Propellaro? Sì purtroppo tra l'altro poi Andrea giocava con me in eccellenza quindi era uno dei miei fuori quota quando allenavo la Melitese quindi è un ragazzo che nel primo tempo ha ripesso la spalla a posto a Ielo quindi un fisioterapista purtroppo poi è capitato a lui quindi non lo so oggi già l'infortunio di Ielo poi dopo quest'altro di Andrea onestamente dispiace perché era una bella partita ci stavamo divertendo insomma il pello lo sapevamo che era forte quindi non l'abbiamo scoperto oggi e purtroppo con l'arrivo dell'ambulanza ciao con l'arrivo dell'ambulanza dopo una mezz'ora perché purtroppo l'ambulanza di Melito era era già era già uscita quindi abbiamo mi hanno chiesto a 118 se volessi far arrivare all'ambulanza di palizzi quindi il tempo il tempo di arrivare insomma ci è voluto poi dopo mezz'ora onestamente ricominciare a giocare con Andrea Terra che gridava i suoi compagni soprattutto ma ma anche pure il nostro giocatore che fortunatamente e soprattutto a gioco fermo come è successo a Ielo ha subito questa infortuna secondo me non sarebbe più stata una partita di calcio poi era passata più di mezz'ora rischiavamo altri infortuni secondo me quindi abbiamo chiesto abbiamo parlato con l'arbitro se ci tutte e due le società di interrompere questa partita anche perché non c'era più lo spirito giusto secondo me per continuare a giocare